Salve, il mio nome è Francesco Lucifora, sono un curatore indipendente con base in Sicilia, dove ho fondato il COCA, Center of Contemporary Arts, Archivio Biblioteca Arti Contemporane. Questo è il terzo anno che collaboro Made Program, il progetto internazionale a Siracusa. Tengo il corso di Storia dell'arte moderna, la cui finalità è quella di fornire agli studenti delle forti basi critiche e dei percorsi di conoscenza in relazione a fenomeni storici, artistici e culturali che caratterizzano l'attenzione dell'arte verso la modernità, in relazione all'idea di natura, dei materiali, delle forme e delle funzioni e delle rivoluzioni che dai Salon Parigini presero avvio fino ad arrivare alla vicenda di Marcel Duchamp. Il corso è importante in quanto dà una mappa, una geografia esaustiva di tutte quelle che sono stati i segni più importanti di questa rivoluzione ed è importante lo studio di quello che è accaduto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento perché vi consente di padroneggiare alcune delle conquiste più importanti che artisti come Courbet, Cézanne, Serrat hanno compiuto passando anche attraverso vicende come quella di Van Gogh e di Picasso o le secessioni che videro per esempio come protagonista Clint. Chiaramente il corso si sofferma anche sui movimenti che più in generale hanno segnato queste vicende come ad esempio il cubismo, il futurismo, il fovismo fino ad arrivare al dadaismo. L'importanza di approfondire le vicende di questi due secoli vi consentono di comprendere quelle che sono state le conquiste di maggior efficacia che si sono poi ribaltate in maniera evolutiva sui giorni nostri. Il corso di storia dell'arte contemporanea prende inizio dai nuovi realismi e dalla pop art prolungandosi verso il situazionismo e l'arte programmata. Alcuni passaggi sono dedicati alla relazione tra arte e ambiente all'approfondimento dell'arte povera e dell'arte concettuale. Altre incursioni vedono approfondimenti sulla body art, sulla scultura e la pittura degli anni 80 fino agli approdi degli anni 90. L'importanza dello studio della storia dell'arte contemporanea vi consente di avere una chiara geografia, una sorta di grammatica, di conoscenza, per proseguire negli studi di arti visive e di design. Infatti la conoscenza di quello che è accaduto, di quello che sono state le conquiste di maggior sostanza, vi consentono di giostrare con maggior padronanza quelle che saranno i vostri progetti futuri. Il corso prevede anche una parallela conoscenza di quello che è accaduto nelle arti cinematografiche, con alcuni focus particolareggiati su alcuni registi e alcune opere filmiche. Durante il corso avete modo di comprendere anche il sistema composito dell'arte contemporanea, dove agiscono diverse figure con diversi ruoli. Tra gli artisti che vengono toccati ed approfonditi posso citare Thomas Saraceno, Rosa Barba, Olafur Eliasson, Matthew Barney, Maurizio Cattelan, ma anche Mike Kelly, William Kentridge, Mark Quinn e Paul McCarthy. In sostanza il corso di arte contemporanea vi prepara ad entrare dentro l'universo di idee di produzione artistica che vi consente di approcciare in maniera critica e approfondita verso obiettivi futuri. Infatti il corso si conclude con un aggiornamento sull'attuale stato dell'arte contemporanea, delle sue produzioni, dei dispositivi espositivi, delle biennali, delle varie traiettorie e derive che consentono oggi di approcciare e determinare un proprio percorso. Una mostra, Magician de la Terra, realizzata al Pompidou, ha aperto una stagione di fenomeni estremamente importanti. Segue una trattazione di alcune delle biennali più rilevanti come la documenta del 1997 e quella del 2002. Una valutazione del format della Biennale d'Arte di Venezia e altri format espositivi. Sicuramente la trattazione dei fenomeni che influenzano, che sono influenzati dalla produzione artistica contemporanea sono essenzialmente dei tasselli di primaria importanza per chi si approccia allo studio delle atti visive e del design. Altra via che il corso prende è quella della trattazione del post-human, un momento dell'arte contemporanea in cui si rivelano degli intrecci che aprono a relazioni con l'arte pubblica, con la politica, con gli aspetti sociali ed ecologici. Alcuni degli artisti che il corso approfondisce sono sicuramente Ai Weiwei, Chen Zen, ma anche Thomas Ruff, Anne Imhoff, oppure Tobias Remberger, Fiona Tan, Steve McQueen. Un viaggio è fatto anche all'interno del cinema, dal rapporto dell'arte contemporanea con il video o con i media, fino ad un aggiornamento sulle ultime tendenze delle arti visive che influenzano una quantità di relazioni, di rapporti e anche di superamenti. Lo studio dei fenomeni, degli stili e delle vicende più influenti sono sicuramente un strumento efficace che vi permette di arricchire, di approfondire quelli che saranno le applicazioni, i vostri percorsi, il vostro futuro.